Eccoci qua pronti ad iniziare un percorso davvero incredibile di questi ragazzi che tra poco noi vedremo sul palcoscenico. Non sarò solo, non sarò solo perché con me mi accompagnerà una vera e propria Miss. Sento Sofia, privato! Vieni Sofia! Applausi più forte, voglio sentirvi una Miss vera che meraviglia! Ciao Sofia, come stai? Ciao Canco, tutto bene, sono la tua prima persona per essere qui. Con noi c'è Federico Malamana. Vieni venuti sul palco, grande professionista, sul palco anche del festival show con la nostra orchestra. Con grandissimo piacere qui a Griffone Shopping Center con noi c'è Alexia. Ciao Alexia. Partiamo subito con il primo candidato di oggi. Prego, entri. Prego. Gianro Singale. La pioggia cade a città ed imparare che è più difficile Sì, è più difficile, sì, è più tardi, c'è la pietra E non fare due, ma è il re Sì, è l'arte intanto per lasciare oggi Saranno a canzoni In questa prima tappa di festival show casting, presidente di giuria Non diciamo sempre d'eccezione, d'eccezione perché lei è eccezionale veramente Alexia, ciao Ciao, grazie Senti Alexia, tu che conosci bene festival show, giochi davvero in casa, sei di famiglia Cosa vuoi dire a tutti quei giovani che volessero partecipare a questi casting? Beh, il festival show è un festival, il palco del festival show è un palco scenico Che ti dà un brivido particolare Diciamo che potremmo paragonarlo anche al palco scenico di Sanremo Con l'aggravante e se vogliamo anche il vantaggio che sei nelle piazze, cioè sei in mezzo alla gente Per cui il pubblico è quadruplicato, decuplicato Quindi ci vuole grandissima capacità di sostenerlo il palco scenico Oltre che saper cantare e avere del talento Che sono poi quegli ingredienti fondamentali Proprio di questi ingredienti parliamo Che genere di consiglio daresti a qualsiasi persona Che volesse proprio sfondare letteralmente con la musica Partendo proprio da queste circostanze, questi contesti come festival show casting Che tra l'altro trovo utilissimi Perché ti danno sempre la possibilità di vincere anche un po' la paura Io ne ho fatti tantissimi di concorsi All'epoca si chiamavano concorsi E devo dire che ogni volta mettevo appunto dei difetti che avevo Perché comunque non sono nata imparata, come si dice Bisogna lavorare tanto, studiare tanto E acquisire quelle sicurezza Quelle sicurezze, quella capacità comunque di gestire l'emozione La paura di non riuscire a raggiungere determinate note Che assolutamente non deve esserci Per cui in generale grande lavoro prima Grazie Alexia per festival show casting Qui dal Grifone Shopping Center Bassano del Grappa Ciao ciao